Abruzzo, regione assolutamente protagonista al Giro d'Italia. Se alla vigilia dalla partenza della Corsa Rosa le attenzioni erano rivolte sulla Vasto L'Aquila e la Tortoreto Pesaro del giorno successivo, che avrebbero interessato il nostro territorio in tre giorni e due frazioni, sono Dario Cataldo e Giulio Ciccone a riscrivere un pezzo importante del ciclismo abruzzese. Nella settimana più calda, la più difficile del Giro, i due squilli degli unici due cavalieri d'Abruzzo fanno tornare le due ruote al centro dei riflettori. Domenica in una frazione su un tracciato molto simile a quello del Giro di Lombardia, è stato Cataldo autore di un'azione bellissima insieme a Mattia Cataneo dell'Androni, partita dopo meno di 10 km dal via, un vantaggio ampio e conservato per tutta la giornata, ma che quando i big hanno aumentato il forcing si stava assottigliando in maniera preoccupante. Per il corridore di Miglianico, ex Sky, le braccia alzate sul traguardo erano state una sorta di risarcimento per aver dovuto fare gioco di squadra a beneficio del capitano Miguel Angel Lopez qualche giorno prima, sacrificando un po' le sue aspirazioni. La vittoria in una volata a due è stato un sigillo che deve aver dato, nel giorno di riposo del lunedì, ulteriore spinta a Giulio Ciccone per la tappa che tutti aspettavano, quella del Mortirolo, ma senza il Gavia, cancellato per via della neve. Il ragazzo della Trek Segafredo, in maglia azzurra di miglior scalatore, dopo aver lavorato nelle frazioni passate per Bauke e Mollema, quando avuto la via libera come ieri ha dimostrato che ormai è a livello dei più forti. Un'azione che nella giornata terribile dal punto di vista meteo poteva essere rovinata da Jan Irt, compagno di squadra alla stana di Cataldo, a ruota perché da dietro rimontava il suo capitano. Giulio si arrabbia, più volte gli chiede il sostegno per giocarsi la vittoria, fa ampi gesti che con la melina potrebbero non conservare il vantaggio preso fino a quel momento, fino all'arrivo di Ponte di Legno. Quando Giulio tira un sospiro di sollievo, ne ha di più e scaraventa gli occhiali come fosse una liberazione dopo tanto freddo e tanta fatica. Esulta una regione intera per due ragazzi ormai veri campioni di questo sport, esulta anche la squadra, la pedale Teate, che li ha accolti da piccoli per poi ritrovarseli a battagliare e vincere nella corsa più prestigiosa d'Italia. Domenica il Giro si chiude con la Crono di Verona, terreno adatto più per Dario che per Giulio, che invece avrà le ultime durissime rampe del Giro. C'è una maglia da difendere, quella di scalatore più forte della carovana.